Non posso che prendere la parola col sorriso sulle labbra, perché mi ha preceduto il collega Sannicandro di SEL. Effettivamente ha utilizzato argomentazioni che stiamo utilizzando noi del Movimento 5 Stelle dall'inizio della legislatura, però verrebbe da dire peccato che se quelle argomentazioni portassero ad una coerenza probabilmente dovrebbero dimettersi tutti, perché SEL non ci sarebbe nemmeno in questo Parlamento senza il Porcellum, quindi sarebbe un po' divertente la cosa vedere magari loro battersi contro questa legge elettorale fuori dal Parlamento. Collega Sannicandro, anche perché sto dicendo che sono d'accordo tramite la Presidenza, anche perché con 49 anni di carriera oramai penso che il livello pensionistico sia stato già raggiunto, a differenza di qualcuno che per la Fornero non riesce nemmeno ad andare in pensione, quindi magari la prossima volta può tranquillamente lasciare spazio a qualche giovane. Dicevo, Presidente, stiamo parlando della legge elettorale, quindi vi è difficoltà a capire se in questa discussione dobbiamo parlare del merito della legge o valutarne gli effetti. E allora cercherò di partire dalla fine, e cioè dagli effetti. Questo Governo, mi riferirò al Governo tramite lei, Presidente, chiede la fiducia sull'Italicum, e al netto della bagarre che ieri c'è stata alla Camera, che si può condividere o meno, visto che stiamo parlando di una legge che è la porta della democrazia italiana, avrete sentito due o trecento volte a che partito apparteneva l'autore del precedente più illustre di questo modus operandi, qualcosa con cui comunque questo Governo e questa maggioranza dovranno fare i conti. Voglio spiegare a qualche Ministro, anche sottosegretario, che a Cerbo, magari così facciamo anche un po' di insegnamento, visto che qualcuno probabilmente non se ne rende nemmeno conto, non è il nome di un nuovo frullato proteico in vendita all'Expo, visto che comunque all'Expo, che dovrebbe essere la vetrina italiana, ricordo che avremo Coca-Cola e McDonald, alla faccia dell'esposizione delle eccellenze italiane. E la legge truffa, di scelba, non è un nuovo sistemone da ricevitoria. Uso quest'arma dell'ironia per dire che non si può prescindere da questi precedenti, che nel metodo e nel merito, quando si analizza una legge in corso di approvazione e si capisce quel che è successo, determinano comunque già un giudizio. Cosa è successo in quelle due occasioni e cosa non è successo dopo? Cosa poteva accadere? Cosa dobbiamo imparare? Perché questo non accada mai più. Ci deve essere un motivo, almeno per riflettere, rispetto a quello che allora è accaduto. Non sono mancati mai in quest'Aula, Presidente, in questa e nelle precedenti legislature, i sostenitori delle concessionarie, ad esempio delle slot machine e del gioco d'azzardo. Eppure, molti dei vostri predecessori, dei vostri colleghi di partito, qui presenti, anche da più di una legislatura, non si sono mai azzardati ad utilizzare questo strumento. La fiducia sulle regole del gioco, loro magari che le conoscono molto bene, che valgono per tutti, anche quando si cambia, non si fa semplicemente con la maggioranza in Parlamento, perché la maggioranza in Parlamento non rappresenta la maggioranza del Paese. Forse, Presidente, questi marinai di lungo corso, con, mi verrebbe da dire, la lungimiranza, Presidente, della tribù dei ladylike, visto che oramai vanno di moda, hanno capito che una cosa, se non è utile e giusta in termini assoluti, è conveniente se sia al Governo e non è conveniente invece se sia all'opposizione. E se il consenso è un valore volatile, se oggi c'è e magari domani non c'è, allora forse non sarà conveniente e nemmeno utile trovarsi dall'altra parte del coltello che oggi si tiene per il manico. Soprattutto mi rivolgo a quei deputati che non sono qui perché in quota corrente, diciamo così, renziana, vorrei ricordare come sono arrivati la maggior parte di questi parlamentari che prima di entrare qui dentro si professavano tutti i bersaniani e quindi tutti facenti parte praticamente di quella che adesso viene definita minoranza PD che è partita da 120, sono diventati 70 ed oggi alla fiducia sono diventati 20. Sembra davvero, Presidente, ne resterà soltanto uno, chissà, forse. Soprattutto parlo, Presidente, per quei deputati che hanno un nome, una storia da difendere, una storia personale, indipendentemente da quella del partito, che vi piaccia o no, a loro mi rivolgo, Presidente, voi siete dei giocatori in questo momento sul campo della politica e vi state facendo da soli le regole del gioco, disprezzando chi è con voi su questo campo, chi vi gioca contro, gente che come voi è stata votata ed è stata portata qui dai cittadini. Per questo, siccome non sopportate chi gioca magari con altre squadre, cosa fate? Vi togliete la maglietta della vostra squadra e vi mettete, lo devo dire, Presidente, la divisa nera, quella che fino a qualche giorno fa loro detestavano. Per chiarirci, se i deputati del centro-sinistra fossero quelle donne e quegli uomini che erano seduti in questi banchi per la commemorazione del 25 aprile, avrebbero odiato un solo tipo di divisa nera, quella dei fascisti, invece evidentemente questi deputati no. Le divise nere che detestate sono probabilmente, Presidente, rimaste soltanto quelle degli arbitri e quelle delle tuniche dei magistrati. Vi danno fastidio coloro che vi dettano le regole del gioco, senza prendere parte al gioco, come dovrebbero fare tutti coloro che sono veramente imparziali, come tutti quelli che vogliono veramente far rispettare le leggi e che devono valere per tutti. Lo possono fare perché non si candidano, perché non prendono parte al gioco politico, perché fischiano il fallo a chi realmente interviene a gamba tesa. Ed è giusto così, Presidente. E allora, visto che il Presidente Renzi ama tanto le metafore calcistiche, ieri potremmo dire che il Presidente del Consiglio ha fatto un fallo da ultimo uomo, si è tolto la maglia della sua squadra del cuore, si è messo la divisa nera da arbitro e ha fischiato la simulazione, ed è espulso addirittura l'avversario sul quale lui aveva fatto fallo. E al mo' violone del lunedì, cioè oggi, lui, subito dopo il consueto appuntamento, logicamente sulle reti Mediaset, non sia mai sulle reti pubbliche, Renzi si sarebbe difeso dicendo «per me è simulazione, se volete, toglietemi la licenza da arbitro». Per capire meglio, Presidente, voglio citare Enrico, un Enrico molto caro al Presidente Renzi. Lo dico subito, non è Enrico Berlinguer. Lo premetto per evitare, magari, un calo dell'attenzione in quest'Aula e fra i banchi del Governo, perché so quanto si annoia anche il nostro Presidente del Consiglio quando gli citano il valore di Enrico Berlinguer rispetto al suo. No, Presidente, sto citando Enrico Letta, il suo predecessore. Se lo ricorda? Penso se lo ricordi? Era quello che doveva stare sereno. In una trasmissione televisiva, il suo predecessore, Enrico Letta, il suo grande amico Letta, testuali parole del Presidente del Consiglio attuale, ha detto che ci sono due precedenti sul metodo dell'approvazione di una legge fondamentale di cambiamento per lo Stato italiano, portate a casa a colpi di maggioranza e sono i due clamorosi fallimenti, definisce Letta. Uno, la riforma del titolo quinto nel 2001 e l'altro il porcellum, fatti dal centro-sinistra e dal centro-destra. Vorrei illustrare a quello che spesso appare come un salone del soprammobile, caro Presidente, quello che vediamo ogni giorno fra i banchi del Governo, che la riforma del titolo quinto del 2001, è stata un fallimento sotto tutti i punti di vista e proprio il Presidente del Consiglio, Renzi, ha proposto di riformarlo, fatto dal centro-sinistra. Non so adesso se questa riforma, Presidente, come la maggior parte delle sue riforme, la farà via Twitter o utilizzando un'altra delle sue preziose metafore calcistiche. Sta di fatto che non avrà bisogno di un nuovo Giuliano Sarti per parare tutte le bordate che gli arriveranno dalla pericolosissima – oramai abbiamo preso atto, dopo la prima fiducia – minoranza del PD. La partita probabilmente sembrerà più un'amichevole estiva fra il Real Madrid e l'amichevole creata con gli amici della bocciofila. E poi, Presidente, il secondo fallimento, il Porcellum, quello al quale il collega Sanicandro si riferiva, l'ha bocciato la Corte Costituzionale. Perché se stavamo ad aspettare questo Parlamento probabilmente avremmo atteso inutilmente la settantacinquesima legislatura, ancora con il Porcellum. E infatti questa legge ignobile, l'italicum, ha parirango rispetto al Porcellum. Non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo dicono molti costituzionalisti che adesso si stracciano le vesti, dopo aver visto realmente quello che Renzi sta facendo. E allora, Presidente, solo per mia curiosità personale, vorrei essere in questo momento un moscerino – probabilmente lo sono politicamente parlando, ma vorrei esserlo fisicamente – per entrare nello studio del Presidente della Repubblica, Mattarella. Quando avvicinerà la penna al testo per aggiungere la firma in fondo, vorrei vedere la sua espressione, la faccia che farà l'uomo che ha giustamente, giustamente bocciato il Porcellum, uno degli uomini che giustamente ha ridisegnato una legge elettorale, che ha fissato dei paletti, un recinto entro il quale era possibile avere le regole del gioco. Certo, il Parlamento avrebbe potuto modificare il Porcellum prima, prima o dopo la sentenza della Corte e nelle sue prerogative. Anzi, avrebbe sicuramente dovuto anticipare la sentenza della consulta, per poter magari battere il pugno sul petto e, in uno scatto d'orgoglio, rivendicare la centralità del Parlamento. E qui, invece, c'è gente che parla di dignità del Partito Democratico, di chi ha proposto la legge, non di dignità del Parlamento. E allora mi verrebbe da dire, Presidente, ma chi se ne frega della dignità del PD? Ma siamo qui a fare la legge per una dignità di un partito o per la dignità del popolo italiano? I vostri conti, e mi riferisco a voi del PD, regolatevi lì dentro casa vostra, non utilizzate le leggi di garanzia degli italiani per regolare i vostri conti. Ecco allora, Presidente, che se fossi sempre quel moscerino che dicevo prima, vorrei cogliere l'esatto momento in cui, dopo averla firmata, il nostro Presidente della Repubblica magari dirà, ma chi me l'ha fatta fare di farmi leggere? Chissà se li verrà in mente. Ah, e per la cronaca, Presidente, guardate che ci siamo già accorti che la maggioranza ha sguinzagliato i loro cani, i loro segugi, fidi segugi oramai, quei giornalisti da riporto che stanno oggi dicendo che l'Italicum va bene soprattutto a noi del Movimento 5 Stelle. Vi ho letto che state mandando in giro questi attacchini a propagandare le tesi che il Movimento 5 Stelle ha tutta la convenienza ad avere questa legge elettorale e che quindi deve andare, andrà in soccorso addirittura a Renzi evitando di protestare. E allora, Presidente, noi siamo così d'accordo su questa legge elettorale che voi continuate ad espellerci dall'Aula, continuate a sospenderci per non avere problemi di numeri qui in Aula. Noi non stiamo protestando abbastanza? Noi ci sgoliamo, ci sbracciamo, presentiamo emendamenti, ne abbiamo presentati pochi, ci avete chiesto di segnalarli e li abbiamo segnalati. Cosa dobbiamo fare di più? Ci state sfidando a fare di più? No, perché, Presidente, se la sfida di questa maggioranza è sfidare il Movimento 5 Stelle a fare di più, noi sappiamo già dove dobbiamo fare di più e dove stiamo facendo di più. Noi faremo di più sull'importantissima proposta fatta, che non è sicuramente quella della legge elettorale, non è sicuramente quella di sventolare una bandierina quando ci saranno le elezioni regionali. No, a noi non interessano questi capricci di Renzi vostri della maggioranza e questi regolamenti elettorali vostri. A noi, Presidente, ci sentirete, ci sentirete molto forti, tremendamente forti, quando in quest'Aula arriverà il reddito di cittadinanza, quando in quest'Aula arriveranno i diritti degli insegnanti, degli studenti che avete lasciato indietro, quando arriveranno le partite IVA, gli artigiani, gli operai, quando arriveranno i problemi veri dei cittadini, allora ci sentirete e allora vi dovete organizzare per cacciarci fuori dall'Aula. Perché, Presidente, ci hanno bollato come fascisti, come sudditi di un leader, come i novelli terminali, ce lo ricordiamo, di una nuova marcia su Roma, addirittura all'inizio eravamo il pericolo pubblico numero uno della democrazia. Ma avete sempre avuto tra le mani il destino degli italiani, voi, voi, maggioranza, voi avete sempre avuto sia la frusta che il bastone. Avete sempre avuto l'occasione e la responsabilità di cui vi riempite la bocca per correggere in meglio la salute e la qualità della vita politica anche, della vita economica, culturale e sociale di tutti i cittadini. E allora, Presidente, noi marceremo, ma marceremo per il reddito di cittadinanza, chiedendo a gran voce, senza violenza, chiedendo verso questi cittadini solidarietà, carità, giustizia e difendendo i diritti anche alla rappresentanza in Parlamento di chi è voce di una minoranza. Perché una legge si fa per chi non avrà mai numeri per governare, mai numeri per fare le leggi. Queste sono le leggi che tutelano la democrazia. Le leggi che tutelano la democrazia tutelano le minoranze, perché la maggioranza ha già i numeri. Voi, maggioranza che in privato e in pubblico, dite di essere addirittura, qualcuno si avventura e dice di essere un proporzionalista, proporzionalista puro. E confezionate su questo ogni sorta di teoria su come dovrebbe venire fuori una legge elettorale. Sappiate che ancora una volta siete stati mortificati, siete rimasti come dei semplici pigiabottone. La poltrona vi ha reso dei pigiabottone. L'arbitro ha detto «Se non pigiate il bottone, mi tolgo la maglietta dell'arbitro e andiamo tutti a casa». Le parole, Presidente, queste parole probabilmente non si misurano col tempo, ma con lo spazio dato realmente a questa discussione. E allora, Presidente, vorrei concludere con un invito, un invito che è quello a tutte le forze politiche di venire con noi a consumarsi le suole in Umbria. Venite a marciare con noi a fianco dei cittadini e per i cittadini e non per una legge elettorale. Diamo realmente la priorità, adesso che la approverete questa porcata di nuovo Italicum, a reddito di cittadinanza. Dimostrate realmente di essere dal lato dei cittadini. Dimostrate ogni volta semplicemente di non cantare e di non celebrare morti soltanto italiani perché hanno perso un posto di lavoro. Ci alziamo qui in piedi, facciamo un minuto di silenzio quando il nostro dovere dovrebbe essere quello di non celebrarlo quel momento, perché i cittadini dovrebbero stare tutti bene e avere almeno un minimo di condizioni di dignità. E allora, se questo appello, Presidente, però, non viene accolto dalle altre forze politiche, come temo accadrà, io faccio loro un augurio, Presidente, per quanto mi riguarda e probabilmente per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, questi rappresentanti dei cittadini – e sono ironico –, questi rappresentanti delle istituzioni italiane possono anche marcire sulle loro poltrone per quanto ci riguarda. Godetevela, quella poltrona, finché dura. Deciderà il vostro leader, Renzi, se siete abbastanza fedeli eventualmente, dopo le prossime elezioni, da avere ancora una poltrona o semplicemente tornare a casa e mi auguro per voi nella stessa condizione disperata da rimpiangere il reddito di cittadinanza. Grazie, Presidente.